Giorno e Gnocchi Ciao Giovanni E chiaramente il successo delle mie magliette è diventato virale, sono virale Le vogliono tutti i più importanti Ecco intanto entrano Giannini e Travaglio, prego, accomodate Vai Gianni, non ti preoccupare Di là Marco, di là Massimo Giannini E le vogliono tutti i più importanti fashion blogger del mondo le mie magliette Mi ne ha ordinata uno persino Chiara Ferrani La usa come straccio per lucidare i piercing di Fedez Allora ti faccio vedere i nuovi modelli che lanciamo questa settimana Allora Settimana scorsa abbiamo avuto come ospite Nespoli dello spazio Ora Nespoli è tornato in Italia E mi ha chiamato Silvio Berlusconi E mi ha ordinato lui in persona una maglietta da regalare a Nespoli Te la faccio vedere C'è figa su Marco Chiaramente in omaggio ai primi 10.000 che acquistano la maglietta a Nespoli C'è l'esclusivo navigatore satellitare d'astronave Segnala asteroidi, buchi neri e anche gli ultimi geni Allora poi abbiamo il modello esclusivo natalizio Daniela Santanchè Te lo faccio vedere Natale con i tuoi, Pasqua col toi boy E ai primi 600.000 Raffrettatevi I primi 600.000 che acquistano la maglietta Santanchè in omaggio all'esclusivo Albero di Natale di Matteo Renzi È un albero di Natale con appese tutte le palle raccontate da Renzi Poi abbiamo il fantastico Allora non poteva mancare ovviamente il modello Cazzola che è un po' un must Te lo faccio vedere Modello Cazzola per il Natale Cazzola perde il pelo ma non il vitalizio Povero professor Cazzola E ai primi 1 milione di attivamenti della maglietta Cazzola daremmo in omaggio la calamita da frigo Cazzola È una calamita speciale perché su qualunque frigo tu la metti attrai sempre Cazzola Lui tu attrai e lui arriva Poi abbiamo il modello Fornero non può mancare per un Natale bello e completo Alla Fornero non far sapere quanto è buono l'esodato con le pere E assieme alla maglietta Fornero non uno ma due omaggi speciali Il primo è il cuscino Bersani Guardatelo Davanti c'è Bersani e dietro di lui Tientiforte La mucca in corridoio E poi lo smacchiatore Bersani per giaguari, cinghiali, leopardi È ottimo per il centro-sinistra Scancella il centro-sinistra e in un attimo Ultimo modello Il più richiesto Il modello natalizio più richiesto Modello Maria Elena Boschi Alla Boschi e al suo papone Un cavo pieno di carbone Attenzione A tutti coloro Che acquisteranno il modello natalizio Boschi Un gustosissimo omaggio Il panettone Gentiloni Il panettone che mette d'accordo tutti Mette d'accordo tutti perché è l'unico panettone che non contiene canditi Non contiene uvetta, niente grassi, niente glutine, niente zuccheri Insomma non sa di un cazzo E' così contento tutti E dovevamo arrivare Questa settimana sono in giro con la slitta di Babbo Natale Vi avviso che Babbo Natale ha cambiato usanza Adesso entra in casa e frega i regali E io gli faccio da parlo sulla slitta Io ve l'ho detto E non fidatevi Ci vediamo dopo Bene torna tra un po' con la sua convertina In tanta vita